Allora, c'è uno lì davanti, no non è davanti a te, si è tipo davanti a te Ah io laggiù vedo No c'è neanche un altro che è sceso molto prima di me Eh io son fregato male Uh però ho trovato il pompa viola E anche la pistoletta blu Eh io sto a venire verso te te sperando di non beccare nemici Perché ecco appunto Mannaggia la miseria, non c'ho neanche il materiale Ah sto cretino Che cretino Sta arrivando il compagno Che fa? L'hai fatto fuori uno? Si uno si Ok eliminati tutti e due GG per G No, GG per GG Cioè qua si deve sentire il gioco di parole Ah ma poverino non c'è neanche niente Mi sa neanche lo voleva aiutare il compagno Era venuto giusto per fare presidenza Si esatto Giusto a dire vabbè io ci ho provato Così a me non ti arrabbi con me Esatto Qua hanno fatto delle scale ma Eh qua poi nella foresta è pure difficile trovarli No ma secondo me sta facendo legna Perché guarda gli alberi Oh si 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 là in fondo Là in fondo Mamma mia Sherlock Holmes proprio Si mi è scomparso Un albero proprio qua è scomparso Eccolo è lì che salta 3.45 E qua Signore e signori Madonna se lo prendevo così era finita Non capisco dove stanno Io uno là si l'ho visto Bam gli ho lanciato una granata Ah sono con sotto Uno l'ho atterrato L'altro sta venendo Ottimo Hai visto morire davanti? No 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 Ancora non era arrivato Ah ok Io questo qua l'ho stanato con la bomba È dovuto uscire Uh scudo Aspetta poi i mini shield me li riprendo io No no vedi Ma mi si blocca con la doppia corsa Devo togliere la corsa automatica Uh costruiscono a 300 Stanno fightando Si Eh c'ho la 6 pagnottella Andiamo andiamo Stanno sparando con nemici di nord est Sì Infatti io direi di andare a verso Facciamo una cosa Io mi occupo di quelli di nord ovest Tu di quelli di nord est Ok Io entro con le granate Ah no ho finito Ah si stanno arrivando infatti sti due Stanno luttando Ok Ok gli ho tolto un po' di scudo entrambi Allora io a quello la Vado Inizio a tirare le granate Dai che schiatta Che culo che è stato bravo Boh non lo so Aspetta quello la io ce l'ho da dietro Facile Atterrato Eh io c'ho solo una pagnottella Eh no no ho fatto niente No no quello lì è morto Quello lì è morto Ah era quello Io pensavo all'altro No 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 quello Quello perché era distratto da te Io però non c'ho più pagnottelle Se io ti rimpaglio le pagnottelle Finita Aspetta aspetta Quanti colpi della Dov'è? Eh non lo so È lì che costruisce Quindi è ancora là È lì attento Ok ma io gli ho tolto Solo cinque gli ho tolto Aspetta a me abbiamo due mini shield Perché stavo Dato che eravamo lontani Stavo proprio allo in testa Ma non ci riuscivo Mi devo tolto Io stavo sadamente Che li devo prendere Per forza in testa Perché se no Tanti fight Li perdo Un casino Eh sì No io Sta cosa di mira in testa Non ce l'ho Però in generale Miro quasi sempre in testa Eh sì io pure Però purtroppo Cioè miro sempre verso il busto Poi io Se l'ucia abbassa Mi prendo anche meglio Sì vabbè certo No ti do mai di tutto No vabbè C'erano due io Quindi se ti vuoi liberare Di uno slot Sì No Ah ok Dove vai Aspetta qua c'è da lottare C'è da lottare Eh ma sta fuori safe E sta arrivando la safe Lo so Lo so Ah ma qua in mezzo all'acqua Fucile pesante tattico Ci sono i mini shield Dove sono Vabbè Sono lì ma non li posso prendere Io sì Dove sono Dove sono Dove sono Eh lì Li vedi Certo Eh vabbè Materiale che mi sei messo Io ce l'ho messo male Eh io pure Io ho 400 di legno Vuoi? Dai No Il nemici ha 220 Ok Me lo faccio ora il legno Oh Eh dove ci hanno sparato? Eh loro Loro Faccio paura Giusto per Io non riesco a vederli Ah stanno costruendo lì Fai pagnotella No Però uno Però uno l'ho atterrato Vai spariamo all'alto Eh io c'ho sto cavolo di albero in avanti Però comunque quando ti fai le basi Tu devi costruire come ho fatto io Guarda Sì 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 No no Lo so lo so lo so lo so Eh one shot Eh premio dall'alto Giù giù Sì lo so mi devo coprire pure i lati Sì perché se no cioè Solo Rischio inutile Ok Eh c'ha lo scar Oddio ma sembra di aver visto i mini shield Invece no Eh Te serviva il legno? Sì mi serve un materiale Non ho materiale Abbassati E così ti possono prendere in testo Eh del resto C'ho tutto poco pure io Eh Stiamo contro un altro team e basta Sì Eh ma non siamo messi bene Te lo dico No E niente Se loro si fanno una base grande E so forti Siamo messi veramente male Usa un medikit Eh è vero a sto punto sì Vai mettiti qua un attimo E usalo veloce Poi arriva la safe eh Sì ma Eh se lo usavi Scialla usalo usalo Tanto la safe è lenta No no però me lo copri perché se ce vedono e cecchina No Sì sì E lo so Ma sai dove sono secondo me? Sono sulla montagna Forse qua che è in safe Probabile Però occhio se arrivano pure da sinistra Non è bella come sito No si stanno a sparare Godo Dove? Eh l'ho sentito verso la montagna questa qui Dietro Saliamo sopra Vai vengo là da te che io qua se no Cioè mi pare di aver sentito spari eh No vabbè se l'hai sentito l'hai sentito C'è un senso Eh ma no Non vorrei che ne becchi uno Pensavo che se stanno a scontrare Ma invece sono Sono qua Sono qua da me Sono qua da me No Infatti sono due diverse Ah sta qua sotto sta Quindi erano due diversi? Sì sì No no Non lo so No 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 erano la tua squadra Ah ok Bam raga Altra vittoria Grazie a tutti